MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Ritorna in Costilla Amalfitana il grande teatro di Edoardo De Filippo. Infatti, al Teatro Palazzo delle Arti di Minori, andrà scena nei giorni 25 e 26 dicembre e 1, 5, 6, 7, 13 e 14 gennaio, la commedia in tre atti, questi fantasmi, a cura della compagnia teatrale Il Proscenio, diretta da Lucia Amato. Con lo spettacolo teatrale dei prossimi giorni, la compagnia bilorese, continua il proprio ciclo sugli spettacoli di Edoardo De Filippo, che, iniziato nel 2017 con Natali Casa Cupiello ed è proseguito con numerosi altri spettacoli, scritta nel 1945, questi fantasmi riprende molte delle tematiche più care ad Edoardo De Filippo ed è ricca di suggestioni pirandelliane. Il protagonista principale, infatti, vive una profonda crisi coniugale, ma l'affronta con una nota di ingenuità e ipocrisia, che lo porta a credere che gli strambi personaggi, che popolano la sua casa, a cominciare dall'amante della moglie, siano in realtà dei fantasmi. Ascoltiamo ora i due attori della compagnia teatrale Il Proscenio, Roberto Pappalardo e Antonietta Capriglione. Capriglione e Roberto Pappalardo, dal Proscenio di Minori, a breve debutterete con questi fantasmi. Antonietta, come è stato lavorare a questa nuova commedia di Edoardo? Isolarsi con i testi di Edoardo non è semplice, ma ce l'abbiamo messa tutta, per cui sì, io penso un bel lavoro, un bel lavoro davvero. Cosa ci dobbiamo aspettare? Ci sono delle novità rispetto all'originale, da questa nuova regia di Lucia Amato? Sì, ci sono delle novità che secondo me ci permetteranno di leggere un po' questi fantasmi in maniera diversa e non me lo posso svelare, perché sono proprio quei colpi di scena che vi lasceranno un po' così sorpresi sulla sedia. Quindi venite a teatro. Grazie a tutti.